Senti, il dato che ci sorprende è che 36 rimbalzi, Avellino 27-1, eppure tutti prima della partita temevano proprio la vostra maggiore stazza sottopianese, sono un problema di mentalità, di scarsa altitudine, di maggiore energia di Avellino? Forse dovevamo essere un po' più aggressivi, però loro hanno dei bravi rimbalzisti d'attacco come Trotman, Shevchik, quindi noi sapevamo che è una loro forza, Trotman prende sui quattro rimbalzi di partita d'attacco, Shevchik tre, quindi insomma sapevamo che poteva succedere una cosa del genere. Invece per quel che riguarda i tuoi progressi, rispetto qui ad Avellino magari ci si aspettava qualcosa di in più, però come ti senti a livello sia fisico che tecnico? Senti che stai continuando a migliorare? Ma sì, la squadra è diversa, diciamo che qua gioco con 12 giocatori, tutti fortissimi, ad Avellino giocavamo con meno giocatori forti come sono adesso, quindi ha un ruolo anche diverso quello che ho in questa squadra. I 18 minuti o 15 minuti giocati a Roma sono diversi dai 20 o 25 giocati ad Avellino. Senti, cosa è successo nel terzo periodo? 17-0 era stato pesante? Sì, siamo calati un po' troppo mentalmente, abbiamo subito i contropiedi, abbiamo buttato via troppi pollini di attacco e questo ha prodotto questo break.